La qualità dei servizi pubblici locali, un incontro a Caltanissetta con il sindaco di Lozza, che è Nisseno. Di cosa avete parlato? Si è parlato della globalizzazione, in particolare un processo che è stato vissuto male dall'Italia, che non ha saputo affrontare il cambiamento. Si è trovata in crisi, come tutti i paesi europei, ma l'Italia l'ha subita particolarmente. Si è parlato di globalizzazione, dove con questo termine si intende non tanto un'alternativa alla globalizzazione, ma uno strumento per vincere contro la globalizzazione, per sfruttare al meglio la globalizzazione, quindi poter proporre il proprio territorio, quindi quello del Nisseno in questo caso, all'esterno, quindi in termini di turismo, di cultura, di prodotti enogastronomici e via discorrendo. Come si trova un Nisseno da sindaco al nord? Beh, è un'esperienza particolare. Io non mai mi sarei sognato qualche anno fa di poter diventare sindaco in Lombardia. È stata una sequenza di eventi più o meno anche casuali. Io lavoravo lì, sono entrato in contatto con la realtà politica locale, finché l'anno scorso mi hanno candidato a sindaco di questo comune, grazie anche a chi mi ha appoggiato, siamo riusciti a vincere, vincere contro la Lega Nord, che è lì un partito molto ben piazzato, quindi una grande soddisfazione anche essere ambasciatore della Sicilia e di Caltanissetta in Lombardia. Come è cambiato il rapporto con la città di Caltanissetta? Beh, il rapporto la vedi con gli occhi magari, la vedi un po' da lontano, la vedi un po' dalla Lombardia con occhi nuovi, individui meglio i vizi, i difetti, individui anche meglio le potenzialità. Ed è triste vedere che un tenitore con tante potenzialità non riesca ad emergere in campo nazionale e internazionale. Che rapporto di collaborazione può nascere tra Lozza e Caltanissetta? Beh, Lozza è un paese piccolo, però il territorio della provincia di Varese è un territorio pieno di realtà imprenditoriali, è un'area in cui i prodotti e il territorio siciliano sono molto ben visti, più di quanto si possa immaginare, quindi uno scambio culturale ma anche commerciale, quindi di imprenditori che possono investire in questo territorio o di commercianti locali che possono proporsi in provincia di Varese. Sarebbe molto interessante, è auspicabile e mi farò promotore con il sindaco di Caltanissetta, che stimo molto, di questo tipo di scambi. Grazie a tutti.